Sempre a proposito di plastica, una signora, anche in questo caso non più giovanissima, una signora di 95 anni, addirittura la plastica la lavora all'uncinetto. Vediamo insieme il servizio dal videogiornale del 22 febbraio. Io ho trappettucetta così e poi io lo croce, io lo gnomo dopo, quando ho aggiunto, ho tagliato tanto, faccio il gometto e poi faccio così. Ecco la che lavora la plastica come fosse lano o cotone, con la stessa disinvoltura e con gli stessi ottimi risultati. Queste sul tavolo sono tutte sue creazioni, dai cestini Porta Gioie ai Salvadanai fino alle borse. La nonnina che ha scogitato questo stravagante passatempo è Ida Sbrollini, un'ardilla 95enne di Porto Recanati. Come le è venute in mente? E mi è venute in mente, ha giupato tanto merletto e dopo ho giupato altre sacchette perché ho finito pure cosa caro, capito? Allora mi devo pensare a fare con questi. Dopo capo da una, glielo regalano una o due, quello che gli pare, e faccio così per passare un'ora di giornata. Un passatempo recente che deriva da una passione lontana. Ida ha sempre amato fare il merletto, sin da quando era piccola. Dopo cena, prendo il croce, mi metto a sedere e mi lo faccio. E prendo il croce e faccio il merletto, capito? Con l'umo a petrolio, che manco se si vivia. E così continua a farlo anche adesso, reinventando però la passione con un'originalità degna solo di una mente ancora sveglia e sagace come quella della signora. Ogni giorno Ida si siede sulla poltrona e fa l'uncinetto guardando la televisione e cantando le canzoni come faceva in passato. Un modo per sentirsi e mantenersi ancora giovane. Amore, 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 la rosa d'ambrettiore. Con me la gioventù. Nasce, morisce, nasce e muore e non ritorna mai più. Molto bene, tra poco torneremo ai nostri servizi. Adesso però rivediamo insieme uno spazio che è stato all'interno di Nero Su Bianco per tanto tempo. Nel corso del 2009 si era trasferito all'interno del telegiornale di TV Centromarche. Invece noi accogliamo con grande piacere il ritorno all'interno di Nero Su Bianco di BCC Marche Notizie. Vediamo insieme. La Banca di Credito Cooperativo di Fano ha recentemente organizzato una conferenza stampa per presentare la seconda edizione della mostra di arte contemporanea BART, Banca, Arte, Territorio, che rimarrà allestita all'interno delle 17 filiali della Banca di Credito Cooperativo di Fano sino al prossimo 29 gennaio ovviamente del 2010. L'Istituto di Credito, che interviene nei diversi settori culturali, in primis l'editoria, ha promosso per la seconda volta un'iniziativa interamente dedicata all'arte contemporanea rendendo protagonisti i clienti e i soci e le loro opere di scultura, pittura e fotografia. Numerosi artisti, a seconda del comune in cui vivono o lavorano, del legame particolare con uno sportello, è stato affidato il compito di trasformare lo spazio di lavoro della filiale in uno spazio espositivo, tutto questo nel rispetto della sicurezza, della privacy e di tutti i limiti che lo svolgimento del lavoro quotidiano impone. Il risultato è una pacifica e soprattutto proficua convivenza tra arte e ambiente di lavoro che valorizza esteticamente le filiali e il territorio in cui si trovano e allo stesso tempo consente agli artisti di far conoscere il loro lavoro. Lo scorso lunedì 28 dicembre è stata inaugurata la settima filiale della Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, in via Corinaldese 4 a Corinaldo. A partire poi dal prossimo 15 gennaio la nuova filiale della BCC sarà aperta anche di sabato mattina con orario dalle 8.45 alle 12.30. Con l'apertura della nuova filiale della BCC di Corinaldo il Credito Cooperativo Marche sale a 205 sportelli chiudendo dunque l'anno con 8 nuove filiali. In occasione delle festività natalizie la Banca Picena Truentina Credito Cooperativo fedele alla sua missione di banca al servizio della comunità locale ha destinato le somme altrimenti utilizzate per i regali natalizi all'acquisto di alcune importanti attrezzature mediche dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Quest'anno la somma donata dalla BCC ammonta 30.000 euro. La notizia è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a fine dicembre presso l'Asur 12 di San Benedetto del Tronto. Grazie agli amici delle BCC delle Marche, delle 19 banche di credito cooperativo, a tutto il personale, a tutto lo staff, ai dirigenti, ma insomma a chi collabora con le banche di credito cooperativo delle Marche, noi facciamo naturalmente i nostri auguri di buon anno. Adesso invece andiamo a vedere un altro servizio, ha 87 anni, quindi insomma non più giovanissima, ma ancora faceva la borseggiatrice, perlomeno fino al 15 luglio, dal quale, da quella data, ci vediamo questo servizio dal videogiornale del 15 luglio appunto. Vediamo. La storia in sé farebbe sorridere se non fosse che il reato è stato davvero commesso e che è di quelli che più infastidiscono perché spesso le vittime sono anziane signore. Stavolta però i ruoli si sono ribaltati ed è facile immaginare lo stupore dei carabinieri di Pesaro quando, chiamati per il continuo verificarsi di borseggi durante il mercato del martedì, si sono trovati davanti una 88enne. Le successive verifiche hanno poi permesso di accertare che lei, Filomena Barbetta, classe 1921, originaria della provincia di Potenza, ha alle spalle una carriera di borseggiatrice di tutto rispetto, iniziata addirittura negli anni 70. Ha girato mezza Italia del sud e non si sa da quando si trovasse nel Pesarese. Si spostava in treno ed era aggiornatissima sul calendario dei mercati settimanali di diversi comuni della provincia. A bloccarla ieri sono stati i carabinieri di quartiere che da tempo sorvegliavano il mercato cittadino proprio per il preoccupante aumento dei casi di borseggio. Nei pressi delle bancarelle di piazzale Carducci hanno notato l'arzilla vecchietta avvicinarsi ad una signora straniera con i bambini al seguito. Pensando di non essere notata, ha infilato la mano nella borsa della signora che era agganciata al passeggino e ha preso il portafogli. I carabinieri l'hanno subito fermata e arrestata tra lo stupore generale. Bloccata immediatamente, la donna ha cercato di disfarsi della refurtiva, è stata bloccata, ha invitato i carabinieri a non urlare, a non attirare l'attenzione, ha pregato loro di chiudere un occhio, però i carabinieri hanno fatto il loro dovere, l'hanno accompagnata in caserma e l'abbiamo tratta in arresto. La donna, abbiamo scoperto che ha un curriculum di vero rispetto, dal 75, almeno negli atti delle forze dell'ordine, risulta che la donna faccia la borseggiatrice, girando alcune piazze d'Italia, soprattutto della Puglia. Per lei è scattato l'obbligo di dimora a Potenza, per i carabinieri invece il lavoro non è ancora finito. Stanno cercando di capire se l'anziana sia l'autrice con dei complici di altri furti al mercato. Grazie a tutti.